L'ex Sampdoriano Baldini è passato al Genova e l'ex Genoano Bergamo alla Sampdoria. Il terreno pesante renderà più pesante il gioco come si vede in questo scontro di Jay con Catani. Basta una spintarella per fare certi scivoloni. Guardate Nilsson. E adesso guardate Gualazzi. Sembra un attrotto. Anche Lusetti corre un grosso pericolo ma in rete è finito soltanto Tapper. Il contrattacco della Sampdoria condotto da Lucentini ha provocato un brusco intervento di Tortarolo che l'arbitro punisce con un calcio di rigore. Le proteste dei Genoani rimbalzano vivacemente sulle gradinate. Tira Righini e la Sampdoria va in vantaggio. I guai per il Genova non sono finiti. Nilsson è espulso per avere colpito Lucentini. I rosso-blu si battono da Leoni ma soltanto nella ripresa perderanno al pareggio. Anche stavolta ci sarà di mezzo un calcio di rigore. Lo tira Baldini e Lusetti è battuto. Ma la gioia dei tifosi Genoani si muterà in disappunto a dieci minuti dalla fine. Gratton portandosi all'attacco ha messo in rete il pallone della vittoria a Sampdoria. Gratton portandosi all'attacco ha messo in rete il pallone della vittoria a Sampdoria.